Ciao a tutti, sono Castellucci Graziella, sono andata a Firenze e sono venuta qua a Cisinau perché avevo questo problema con questi denti che era da tanto, tanto tempo che cercavo di risalverlo e a Firenze mi avevano chiesto una cifra esorbitante e poi il lavoro era più lungo, ma dovevo stare più tempo, quindi ho deciso di provare a venire qui tramite internet, ci siamo informati e abbiamo conosciuto delle persone e chiesto come era andata e ci siamo buttati in questa avventura, è stato un successo, i miei denti sono qui, sto bene, ci mastico bene, per ora sono contenta, va tutto bene, le persone che ci hanno accorto sono persone fantastiche, ci fanno sentire il nostro agio, in Italia siamo trattati come in Italia, insomma non c'è problemi, a chiunque voglia affrontare una cosa del genere di stare tranquilli, che qui siamo protetti e il lavoro che viene fatto è viene fatto bene e siamo sempre sotto cura, anche negli anni possiamo ritornare sempre da loro a farci reculire i denti, quello che c'è da fare insomma e i dottori sono fantastici, grazie a tutti.